Siamo con un personaggio direi storico dell'IPO presente dalla prima edizione, Mara Culci che è anche responsabile della comunicazione per quanto riguarda l'Italian Poker Open. Si pensava che quest'anno non si facesse un altro record e invece un altro record. Ebbene sì, altro record. Possiamo dire di ritenerci abbastanza soddisfatti. Con il D1A abbiamo fatto 733 giocatori, per arrivare al D1B con 859. Sì, riteniamoci abbastanza soddisfatti. Andrà oltre 2.000 presenze, davvero numeri da record. Ecco, volevo sapere da te come è cambiato, come hai visto il cambiamento dalla prima edizione a oggi? Siamo partiti, mi ricordo, eravamo partiti con il primo IPO, con la prima edizione. I giocatori sono stati più? 301, me lo ricordo ancora. Siamo partiti anche per gioco, una scommessa. Se ne passate da 300 a 3.000 giocatori, come avete fatto a gestire questo cambiamento incredibile? 3.000. Quasi. Quasi 3.000. Con domani pensiamo di arrivare sui 2.400, 2.500. Poi domani vediamo come si evolverà il D1C. Però la prossima tappa l'obiettivo è 3.000. Insomma, da 300 a 3.000 è un cambiamento pazzesco. Mi stai facendo una domanda a cui in questo momento non posso risponderti. Di certo posso dirti che noi miriamo andare sempre più in alto. Andare sempre più in alto vuol dire comunque avere un'organizzazione, non dico eccellente, ma che dico eccellente, un gruppo affiatato. Ma quando finisce l'Ipo, giorni di grande pressione per voi naturalmente a livello organizzativo, dovete fare 200.000 cose, ti prende un po' di vacanza, ti prende un po' di respiro, ti scoppia la testa? Penso proprio di no. L'Ipo termina al 30, poi c'è il primo maggio che avremo un altro bel torneo e poi ci sarà dal 10, mi sembra il 12, 13. In questo momento sono veramente un po' cotta, per cui le date, che ci sarà anche lì un altro torneo. Vi riposate mai insomma? Ma io penso che fin dopo metà maggio, che riprenderemo con i nostri tornei classici serali, continueremo a proseguire. Sai che l'Ipo vuole invidere in tutto il mondo? Beh io penso di sì, mi ricordo ai tempi, ci avevano dato delle meteore qualcuno e posso dire alla faccia delle meteore, campioni del mondo. Grazie. Grazie. Grazie.